Ecco c'è la collina, il mister Gabriele fa assaggiare per la prima volta ai ragazzi della Juniores la collina, i sali e i scendi. Ecco qua il gruppo della Juniores. Il mister Gabriele proprio sopra la collina. Mentre gli allievi stanno laggiù. E allora sciolto tra le fine qua, tra lì, tra le fine qua e poi gli scendi piano piano lateralmente. Pronti? Fai lo stesso passo. Sozz-sozz, ok. Mi sposa, ok. Sozz-sozz, sì. Sozz-sozz, sì. Sozz-sozz, sì. Iozz... Sozz-sozz-so. Bliutasi. Cibo? Cibo? Salgono e scendono, recupera Pielo, Amedeo di Savoia, a posto, ecco Mr. Mauro, Tit Bull Importer, sta facendo il portiere con la mano ingessata, alle prossime a presto